Varte Moore gioca il pick and roll con Croseriold, gran giocata sull'asse Moore Croseriold con la Liberti. Poi lo scarico in angolo per Aker, riceve Johnson de Costa. Bellissima azione di passaggio di Can2 e Johnson. C'è il rimasto di Brescia che è già dall'altra parte con Vitali, pick and roll con Croseriold, il pallone in mezzo alle gambe di Vitali e c'è il canestro di Brescia, che giocata di Vitali. Con Chris Wright che colpisce dall'arco la penetrazione con scarico di Maynor e poi esplode tutta la potenza atletica di Chris Eyinga. Gigi è il modo migliore per segnare il primo di due della partita con il tappo in animale basso al tag. Gigi è il primo gioco di Cicciarini e si prende la stoppata dall'Auala, dall'altra parte lo schiaccione di Johnson Odom. Gigi è il primo gioco di Cicciarini e si prende la stoppata dall'Auala, 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 dall'Auala. Gigi è il mio gioco di Cicciarini e si prende la stoppata dall'Auala parte, vola ancora sopra al ferro Giorgio.